Crutch Mindset, benvenuti cari amici del canale Dampat Rugby. Ragazzi, dopo sta settimana incredibile, perché dopo quella partita che non nomino più, dai, quella partita che non nomino più, la gioia, la gioia dell'Under 20 poi un paio di giorni dopo, ieri abbiamo avuto qua, intanto devo postate le camera, vabbè, poi ci lavorerò sopra, c'è un po' le luci, un po' scure. Ieri abbiamo avuto la bellissima sorpresa di avere Rizzoli e Genovese qua nella live, però il rugby non finisce, non finisce con l'ultima partita dell'Italia, i nostri, sia della Maggiore che dell'Under 20, vanno in vacanza, ma c'è ancora un bel po' di gente, compresi noi da tifosi, che non andiamo in vacanza. Perché? Perché domani c'è un, una giornata campale, direi, io credo che è da moltissimo tempo che non viviamo, soprattutto nei test match estivi, però in generale, una, mi viene così, un gioco di parole, una serie di serie, una serie di serie che vanno tutte al, al, al decider, no? Allo spareggio, alla bella, chiamatelo come volete. E domani allora abbiamo il programma. Allora, iniziamo, ve lo leggo, per chi volesse svediarsi questa notte, anzi si può fare un dritto, si guarda i mondiali di atletica e poi alle due di notte si può guardare Tonga Australia B, poi alle 5.30 Fiji Samoa e poi si inizia, poi si inizia perché alle nove della mattina Nuova Zelanda, Irlanda, a mezzogiorno Australia, Inghilterra, faremo le live sia della prima che della seconda, poi alle 4 Giorgia Portogallo, mamma mia non parlateci più della Giorgia, però potrebbe essere una partita interessante da vedere, anche se dubito che poi alle 5 non cederete alla tentazione di cambiare canale e andare su Sudafrica Galles. E mentre le altre volte ho fatto le live solo delle prime due della mattina, domani ho una mezza idea, vediamo, ma ho una mezza idea di fare anche Sudafrica Galles, perché questo decider appunto di questa serie è particolarmente succulento. Poi alle 9 Stati Uniti Cile, attenzione importantissima anche questa, gli Stati Uniti hanno vinto di un punto e si giocano la qualificazione al mondiale e sempre alle 9, alle 9.10 Argentina-Scozia, anche questa spareggio. E allora ragazzi ho detto facciamo un video veloce dove andiamo semplicemente a commentare le formazioni delle squadre proprio in maniera molto rapida per metterci un po' sul pezzo per quello che succederà domani e poi ci divertiremo nelle live. Allora iniziamo dalla grande sfida, All Blacks Irlanda, All Blacks che scendono in campo con Bauer, Taylor, Laulala, la prima linea, facciamole così, facciamole sdoppiate, vi dico reparto per reparto. E si troveranno di fronte una grande prima linea irlandese. Porter, Sheenan, Furlong. Seconde linee, attenzione, Retallic e Whitelock, Scott Barrett va di nuovo al flanker, però le ultime notizie non lo davano proprio sicuro partente, mentre l'Irlanda risponderà con Tyke Byrne, James Ryan. Terze linee, Scott Barrett, Sam Kane, Ardi Savea, piccola polemica in Nuova Zelanda su Sam Kane, in Nuova Zelanda c'è sempre la polemica sul capitano, sull'apertura e adesso sull'allenatore. Questo proprio è un... così, si sa che è sempre così. È un punto fisso. Risponde l'Irlanda con Oma Honi, Van Der Fliere, Callen Doris. Si è letto da qualche parte che Oma Honi, non ho ben capito quando, ma avrebbe fatto un piccolo insulto a Sam Kane nella partita scorsa, gli ha detto, you are a shit Richie McCaw. Non ho ben capito, non ho approfondito e qualcuno rispondeva, meglio essere uno shit McCaw che un vero Oma Honi. Insomma, l'ambiente si sta scaldando. Poi, al numero otto, da una parte, Ardi Savea, che stavolta vedranno di lasciarlo in campo, anche se ricordiamo che avrebbero potuto rimetterlo in campo. Ha fatto un casino Piper la settimana scorsa e dalla parte irlandese Callen Doris. Mediani di mischia. Torna Aaron Smith. Aaron Smith si prende la nuove titolare e dall'altra parte Gibson Park. Boden Barrett e Johnny Sexton, che sfida, che sfida all'apertura. I centri. Avili, Rieco Johane per quello che riguarda l'All Blacks e la copia di centri che piace a me, con Bundy Aki a fare da playmaker crashball ad alternanza e poi a fianco a lui Robbie Anshaw. Savo Reese e James Law all'undici. Will Jordan e McCanson sfida di frecce alla quattordici. Estremi, da una parte Jordi Barrett, dall'altra Hugo Keenan. Ragazzi, io credo che ci sarà da stradivertirsi in questa partita. E favorita comunque dalle quote molto gli All Blacks. Io non sono così sicuro, onestamente. Certo, questa è l'ultima di un tour molto molto lungo per l'Irlanda e tra l'altro lo spareggio di tutto perché anche nelle partite del Midweek hanno pareggiato, ne hanno vinta una e persa un'altra. Con i Mauri All Blacks domani ci si gioca tutto. Le panchine molto rapidamente. Cole, Ross, Tunga Fassi, Johane, Papali, Fakatawa, Moanga e attenzione primo cap per Tuivasa, Sheck per quello che riguarda la Nuova Zelanda. Risponde l'Irlanda con Herring, Healy, Bellam, Tridwell, Conan, Murray, Carberry, Earth. Allora, va bene, l'abbiamo detto, insomma, il ritorno di Whitelock, Aviglie e Jordan dentro la squadra, insomma. Ci sono tanti temi interessanti, però ce n'è uno soprattutto. In Irlanda bolle la pentola, bolle la pentola di Ian Foster. Addirittura ho letto di gente che diceva questa settimana, è la prima volta che ti ferò, neozelandesi, che ti ferò contro gli All Blacks, perché tanti pensano che se dovesse perdere potrebbe essere il momento del cambio definitivo dell'allenatore, non farlo arrivare fino al Mondiale. Insomma, le polemiche ci sono sempre. Facevo proprio la punta delle polemiche degli allenatori. Tutti vivono le loro polemiche. Lo stesso Farrell ha vissuto le sue, Foster vive le sue, Eddie Jones è in perenne guerra con la stampa britannica. Tutti, tutti vivono, tutti vivono le loro polemiche. Addirittura il nostro Kieran Crawley questa settimana è stato messo un po' ovviamente sotto l'occhio del ciclone, però è normale. È il lavoro dell'allenatore, è il lavoro dell'allenatore. Quando vinci ti lodano, si dice di solito, no? Quando vinci bravi ragazzi, quando perdi colpa dell'allenatore. Quindi è chiaro che dopo ogni sconfitta, e qui hanno perso un po' tutti, quindi almeno una volta se la sono beccati tutti. Finita quella, ditemi i vostri pronostici nei commenti, si passerà a Wallabies, Inghilterra. Allora, Wallabies, Australia, con James Slipper, Poretsky, Daniela Tupou, Frost, Philip, Wilson, Michael Hooper, con i gradi di capitano, e Valentini da terza linea. Ah, qui non l'ho fatto, facciamolo allora adesso, facciamo gli avanti. Dall'altra parte, risponde l'Inghilterra di Eddie Jones con Alice Gange, George Stewart, Chessum, Hill, Carnelos, Ludlam, Billy Munippola. Mediano di mischia, da una parte Nick White, dall'altra torna da Nick Kerr, tanti hanno detto, ma come Van Portfieldt aveva fatto tanto bene. Però Eddie Jones ha i suoi piani, vede le cose come le vuole vedere lui. Io credo che Eddie Jones voglia provare questa cosa di dare a Marcus Smith il suo mediano di mischia un'altra volta, e allora così è, Marcus Smith all'apertura. Dall'altra parte non c'è Quaid Cooper, perché sappiamo si è fatto male, e allora c'è Noah L'Olessio. I centri, Kerevi Paisami da parte australiana, Pharrell Porter da parte inglese, Marika Corribette, Tom Wright, Eris Roge, il triangolo allargato australiano, Freeman, Noel, Stewart, il triangolo allargato inglese. Tanti nella stampa inglese chiedono Arundel, 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 fateci vedere Arundel, ieri anche i nostri ragazzi dell'Under 20 l'hanno nominato come vero fenomeno, è entrato in campo nella prima partita, ha fatto una meta dopo tre secondi, però per adesso sappiamo che Eddie Jones è parsimonioso, soprattutto quando la gente chiede a gran voce quanto ha fatto aspettare gli inglesi prima di avere Marcus Smith. L'hanno convocato prima i British and Irish Lions, che Eddie Jones lo mettesse in pianta stabile con l'Inghilterra. Panchina, Kowandiki, Vunipola, Heiss, Isekwe, Willis, Van Portsfield, Joseph, Arundel. Occhio che guardando questa rosa mi sembra che la panchina dell'Inghilterra possa dire la sua. Dall'altra parte, Fahinga, Bell, Alalatoa, Leota, Samu, McDermott, Iki Tavu e primo cap per Vunivalu. Certo, anche l'Australia ha la sua panchina, però vedere giocatori così appunto come Joseph, come Van Portsfield, come Arundel, Willis, Isekwe, Vunipola, Kowandiki, Heiss, tutti. Io ho un po' la sensazione che la panchina inglese sia particolarmente solida. Per il resto, per il resto, niente, anche qui, anche qui le polemiche, ma al di là delle polemiche, le dichiarazioni di Eddie Jones. Eddie Jones dice abbiamo avuto una squadra di 36 giocatori in questo tour, tutti hanno lottato, hanno lottato in maniera dura per guadagnarsi un posto, sono molto orgoglioso del loro sforzo, andremo con questi 23. Dice, è una squadra inesperta, ma tutti assieme hanno sviluppato un buon spirito di squadra durante la serie. Beh, insomma, lui cerca sempre di mettere le mani davanti, perché non mi sembra proprio inespertissima. Ci sono giocatori come Genge, Joe Stewart, insomma, mi sembra che di gente esperta ce ne sia. Kanye Lowe, Ivo Nipola, Danny Kerr, come si fa a dire che Danny Kerr è un giocatore, è un giocatore inesperto. Farrell, vai, insomma, dai. Lui mette sempre un po', mette sempre un po' nelle mani davanti. E allora poi, nel pomeriggio, si passerà all'altra partita che è in Sudafrica e in Galles. Tutti aspettano un Galles miracoloso, un Galles che quando sembra stare affondando riesce sempre, sempre, continuamente a trovare le energie per tirare fuori la testa, è veramente incredibile. Ne ho parlato più di una volta, la resilienza del Galles, però domani si troverà di fronte gli Springboks. Direte sì, anche nella prima, anche nella seconda. No, domani si troverà di fronte il meglio che può mettere in campo il Sudafrica. E allora cos'è il meglio che può mettere in campo il Sudafrica? Nia Cane, Mbonambi, Malerbe. Dall'altra parte risponderà il Galles con Garrett Thomas, Ryan Elias e Dylan Lewis. Seconde linee, Ezebeth De Gagher. Dall'altra parte, Roland Adam Beard. Terze linee, attenzione perché le terze linee del Sudafrica sono incredibili. Sia Colissi, Peter Steffdutoi e Jasper Vise. Risponde il Galles con Lidiot, Raffel e Faletau. Sia, bella sfida, bella sfida. Kieran Hardy che vince la sfida con Thomas Williams per la maglia numero nove. E dall'altra parte interessante perché non c'è Fav de Klerk, è in panchina e ci sarà Hendricks. I mediani di apertura Pollard Biggar e poi i centri De Allende, Luca Noam dalla parte. Springbok, Tompkins, George North dalla parte gallese. Josh Adams contro Mappimpi all'undici, anzi Josh Adams contro Chesley Colbert, undici contro quattordici e Mappimpi contro Rizamit, undici contro quattordici dall'altro lato. Bella la sfida delle ali, bella la sfida delle ali, veramente delle frecce. Mappimpi, Josh Adams, Colbert Rizamit. Cosa volete di più? Cosa volete di più? Agli estremi, Wilhelms da una parte e Liam Williams dall'altra. Una bella sfida, una bella sfida. È logico che parte favorito in Sudafrica, però partiva favorito nella prima e la scampata per miracolo, nella seconda non la scampata e attenzione perché domani vanno a giocarsi in tutto per tutto. Anche qui quello che mi fa pensare sono le panchine, però attenzione perché sembra che la panchina sudafricana sia più potente, ma anche quella gallese ha gli assi nascosti nella manica. Perché Sudafrica, Marks, Kids of Koch, ragazzi pensate, una prima linea di riserva, Marks, Kids of Koch. Poi, Mostert, Smith, Lou, De Klerk e Willy Leroux. Dall'altra parte, il Galles, Lake, Jones, Wainwright, Halloween Jones, Navidi e qui sono i vari assi nella manica. Halloween Jones, l'esperienza, Navidi, poi Thomas Williams, Hanscombe, il salvatore della patria della settimana scorsa e Watkins. Ragazzi, secondo me sarà una bella partita. Io non vedo così scontato che il Sudafrica la porti a casa in carrozza questa partita. E poi, se non sarete ancora stufi di questa scorpacciata di rugby, insomma, decidete voi, vedetevi Stati Uniti e Cile, oppure guardarvi Argentina-Scozia. Argentina-Scozia, formazioni, vediamole. Soprattutto l'Argentina è interessante anche dal punto di vista italiano, perché l'Argentina mette in campo questa formazione qui. Thomas Gallo, Augustin Crivi, Joel Sclavi, Joel Sclavi, Guido Petti, Thomas Lavanini, Matera, Grondona, Facuisa all'otto, Batham-Velez al nove, Santiago Carreras al dieci, Moroni-Orlando, Bofelli, Delgui, Maia. Sperimentale. Sperimentale perché? Perché questo anno. E allora qui si aprono un sacco di temi. Si apre il tema della mediana, domani giocherà il mediano di Mischia, che giocherà a Rovigo l'anno prossimo, e giocherà di nuovo Santi Carrera al dieci. si è creato il problema, dopo gli infortuni di Nico Sanchez e Thomas Cubelli, bisogna trovare delle soluzioni di ripiego. Questo era un problema annoso che si portava dietro prima anche le Desma, e allora adesso hanno messo di nuovo Santi Carreras all'apertura. Però attenzione, perché domani si gioca, secondo me, la sua possibilità di essere la seconda scelta all'apertura. Un giocatore che conosciamo molto bene come Tomy Albornoz, domani ci sono addirittura tre giocatori Benetton in squadra, perché c'è Gallo Albornoz e Tetas Ciapparo. E allora la panchina dell'Australia. Ciapparo, Codella, Kremer, Samso, Gonzalez, Samso, Bertranou, Albornoz e Sinti. Come risponde la Scozia? La Scozia risponde con Sutherland, Ashman, Faggerson, Cummings, Gray, Dargie, Watson, Faggerson, Ali Price, Kinghorn, Tui Pulotu, Bennett ai centri, Van der Merve, McLean, Oli Smith. In panchina, Cheris, Koeman, Sebastian, Jan, Christie, Horny, Thompson, Johnson. Attenzione, questa è probabilmente la partita più equilibrata sulla carta, perché all'inizio sembrava che l'Argentina fosse ben favorita in questa serie. Però l'ultima partita ha aperto un sacco di punti di domanda. Ragazzi, ci sarà da divertirvi. Non ve la tiro lunga oggi. Faremo le tre live. Avremo tutto il tempo di parlare di tutto quello che più riterrete opportuno. Ditemi i vostri pronostici per le partite di domani. Tutte e quattro, diciamo, le più importanti. Se poi ce ne volete mettere in mezzo altre, mettetecene pure in mezzo altre. Ma tutte e cinque, scusate. Quindi, ripetiamo, Nuova Zelanda, Irlanda, ripetiamo anche gli orari. Nuova Zelanda e Irlanda alle nove, Australia e Inghilterra a mezzogiorno, Sudafrica-Galles alle cinque, Argentina-Scozia alle nove. No, sono quattro. Però in mezzo ci sono anche Giorgia-Portogallo, Stati Uniti-Cina, Tonga-Australia-B, Fiji-Samoa. Insomma, ragazzi, una giornata di rugby da leccarsi i baffi, da divertirsi. Ci vediamo domani sul canale. Fischio finale. Il solito grande bacio. A presto e buon rugby. Ciao!